Per molti studenti le vacanze di Natale non sono ancora finite. In molti hanno rimandato infatti il rientro in classe a casa delle scuole chiuse per neve e gelo. Tra le città con gli istituti scolastici rimasti chiusi, Salerno, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Rocca Piemonte, Castessa Giorgio, Battipaia, Baronissi, Fisciano, Cava dei Tirreni, Eboli, Pellezzano, Acerno, Giffoni, Vallepiana, Monte Corvino Rovella, Monte Corvino Pugliano, Castiglione del Genovesi, Caggiano, Padula, Teggiano, Sala Consilina, Atena Lucana, San Rufo, Sant'Arsenio, Montesano sulla Marcellana, Campagna, San Mango Piemonte, Capaccio, Contursi Terme. Ironia web invece ha Scafati dove nelle scorse ore è circolata su Facebook una farsa ordinanza di chiusura per le scuole, opera probabilmente di qualche ingegnoso studente. La Campania continuerà ad essere nella morsa del gelo, seppure con una breve tregua fino al tardo pomeriggio. Le condizioni meteo stanno mettendo a dura prova la popolazione a causa delle temperature minime a meno 7 gradi. Le nevicate dovrebbero tornare presto anche se in maniera più debole e soprattutto si attendono gelate. La protezione civile campana ha prorogato l'allerta fino a mercoledì, raccomandando alle autorità competenti di attivare tutte le misure preventive, prestando attenzione alle fasce deboli della popolazione e senza fissa dimora. Con particolare attenzione alla verifica delle condizioni di transitabilità o all'eventuale spargimento di sale o liquido digelante nel rispetto delle norme ambientali. Agli automobilisti si ricorda invece di mettersi in viaggio dotati di pneumatici da neve o muniti di catene per la possibilità di gelate notturne anche in zone pianeggianti.